ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi altro video tutorial di nail art questa settimana sono andata a realizzare una nail art estiva con i colori già con un colore bello giallo e ho fatto una decorazione a conchiglia questo è il risultato l'ho fatto con la tecnica dello stamping e niente vi lascio il tutorial spero tanto che vi piaccia ciao inizio con la base utilizzo questa della trebosi con cui mi sto trovando davvero bene la diamond nail hardener ora su tutte le unghie andrò con questo giallo e utilizzo questo dalla melissa melissa gel che il numero 097 giallo molto coprente per cui devo procedere con una seconda passata ora andrò a decorare l'anulare e il medio con la tecnica dello stamping utilizzo questa piastrina estiva e vado a fare le conchiglie utilizzo un nero per lo stamping con dello scotch vado a pulire la pelle lascio asciugare bene e poi concludo con il top coat concludo con il top coat utilizzo questo della essence light reflection questa è la mia nail art terminata anche questa a tema estate spero tanto che vi sia piaciuta se la replicate mandatemi le foto che le pubblico sulla mia pagina facebook e ci vediamo il prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti.